assaggiamo che il lupo non c'è oh c'è la pescheria aperta ci vogliamo comprare un bel pesce ma se ci prende un pesce intero io ci metto l'amo e che fai faccio finta di averlo preso se c'è una fetta di pesce a spada io invece di andare al ristorante me la compro e me la vado a cucinare che dite? e la griglia dov'è? e la griglia dov'è? non c'è vediamo andiamo a vedere il pesce ma no ci facciamo uno spaghetto con una frittura dai guarda uno spettacolo va bene guarda lì il mare qua c'è è un bel pesce eh? vai scorri bello 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 sera signora posso riprendere i pesci? qui c'è ma questo è il coso dove lo sgombro questo è il cefalotto può perdere quelle seppie c'è il mio sogno lo spadace c'era c'era lo spadace c'era troppo bene andiamo cosa? di cappottetta chiede? li chiamano cappolotti di cappottetta ma sono di cappottetta? però li chiamano cappolotti qui e ma non sono quelli che... non sono quelli che... grazie grazie